E' molto semplice Da vi ta di da da Sai che appena metti play e senti la prima nota fai ok scoffi E la mia sensazione fu, posso dire una cosa in dialetto barese? Io è brutto ma mi piace E Town era appunto, è stata una rivelazione, cioè la possibilità La mia sensazione fu, posso dire la mia sensazione fu, posso dire la mia sensazione fu.